L'idea web tv con Martina Lafiana che ha appena vinto l'incontro contro la sua avversaria siciliana qua a Roccaforte e allora la prima domanda che ti faccio è come ti sei avvicinata a questo sport? Mi sono avvicinata a questo sport grazie a mio padre che è praticamente cucinato quindi lui mi ha portato in palestra e a poco a poco mi sono appassionata di questo sport e lui è contentissimo, pure mia mamma vengono dietro sempre quando combatto e quando faccio tutto una vittoria importante è quella di oggi ma ancora più emozionante deve essere stato vincere lo scorso anno a Buenos Aires Vincere a Buenos Aires è stata l'emozione più grande, l'emozione indimenticabile che potrà essere è guagliata diciamo dal vincere le Olimpiadi vere e proprie a Tokyo del 2020 E un invito a tutti quelli che ti seguono, tutte le ragazze che potrebbero anche loro avvicinarsi alla box perché avvicinarsi alla box? Vi dovete avvicinare alla box perché la box vi cambia la vita se voi avete dei problemi, se vi succede qualche cosa di grave o anche meno grave quando entrate in palestra da che non abbi a fare più girate i problemi ve li scordate quindi è un buon aiuto, un buon rimetto grazie! grazie!